ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare del can future live srl ultimo aggiornamento 26 agosto 2021 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve da candè un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale è commercializzato in italia dall'azienda future live srl informazioni commerciali titolare future live srl concessionario future live srl categoria di appartenenza integratori per il benessere dell'apparato urogenitale forma farmaceutica capsula gastro resistente confezioni decant 20 capsule gastro protette 11,9 g indicazioni questo particolare ceppo di lievito è stato oggetto di uno studio clinico che ha dimostrato un'attività probiotica accelerando il ripristino della normale flora vaginale migliorando nella funzionalità e lo stato fisiologico e di conseguenza limitando considerevolmente la probabilità di nuove aggressioni esterne da parte di altri lieviti potenzialmente dannosi come la candida albicans modalità d'uso 1 capsula al giorno descrizione e caratteristiche decant marchio registrato è l'integratore alimentare a base di saccharomyces cerevisiae cncmi 3856 5 miliardi uvc barra g è uno specifico ceppo di saccharomyces cerevisiae appositamente selezionato e studiato per ripristinare l'equilibrio della flora vaginale per azione indiretta avvertenze tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni non superare la dose giornaliera consigliata gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di un sano stile di vita allergeni senza lattosio senza glutine ingredienti saccharomyces cerevisiae cncmi 3856 2,5 miliardi uvc barra g agente di rivestimento idrossipropilmetilcellulosa agente gelificante gomma di gelano apporto nutrienti contenuti medi per 1 capsula saccharomyces cerevisiae cncmi 3856 2,5 miliardi uvc cellule vive fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato